Giovanni 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 Ma lei mi ha pussito Tu ti vuoi che lo bisogni L'hulvia mai Ma Giovanni C'è te l'obbligato che ti sei sempre a regritare Si padrona arrivo padrona Tu ti prego un pazzio caso a me Arrivo padrona non ti vuoi Arrivi arrivi Si che padrona Adesso saranno i miei amici che vengono di stare Mi raccomando quando arrivi Ti va portati Perché mi sono preoccupato Perché ho la formula che ho da partori all'ospedale Adormi Tu direi a portare padrona Adoranti guarda il pulitire Le faccende domestiche padrona Grazie Gentile padrona Pulisci bene perché ha sempre da tornare in passato Non si preoccupa Teppure stai tutta padrona non si agiti Penso io E' consumata Da lavorare Ma vuoi come il nega Tanta padrona Tanta padrona Caponello padrona Avrà comando Porto io 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 Chiari seduta padrona Adesso 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 Mazzica Si Estai venendo portare Io sto portando padrona E Mazzica Non so Che Pagora A mia ma che spara da tutta viglia da fagni mi? oi 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 ma che sei da tolto? ma sono i amici il mio consiglio che ne vanno che sei coso invece guarda ma cosa mi dici nuca? nuca? ma ciò la roba adesso non è così allora si la va? allora la roba mi ha tappello no? come mai? allora fanno da parturito eee beh è neri tempo da parturito adesso con la crisi con me è neri tempo da parturito adesso e non ha e quindi? eeeh 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 via da lì, fino a un cittadino dell'altro va bene in castorca, ma sì va bene in castorca un campanello, un telefono un telefono, magari la chiamiamo in te Gioani! oh padrona dica, tutto padrona perché a gente ci portaresti il stocco 84 stocco 84 subito per voi due e tutti tanto eh però tanto, posso prendere io? eh grazie eh fatica il scopo, faccio quasi no fatica lei eh sarà benvenuta puoi fare tutto? puoi comprare la roba all'estero? semmai tutti comprati non lo raccomando, mi sono stata infediccia eh ma va bene andarmi bene in altavolta ma che l'arresti raccomando? da qui? da qui un po' da qui ah salsilvio ah so migliorate sei che via sei il biglietto passo un gioco appena a fare ah eh a te a te ma dove andavo lo stocco 84? pure io ah guarda mi addicchio 84 al bicchiero ma ti capisci sempre lei è dentro lo stocco 84 io ho portato lo stocco Gio 84 ma si mandui a bevi un 84 sto? allora dovete dire due bicchieri con la bottiglia ma che devi pensare che si mandui? al massimo se ti bevi così ma si mandrei ma io devo lavorare io lavoro per gli sciuri lavoro io eh si sei un paio hatene per cui hai bagnati dall'ultima ma non tanto beva niente per quanto e un paio e la pianta a 4 al penutlio non hai due bicchieri ma vedi ah freghi 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 No, ma è bene niente perché ti dici, signore, ti ho gli anni bianchi qua. Voi vedi qui tutto bene. Ma signora, spieghiare la telefona? Pronto? Pronto, buonasera, parlo con il signor Giuseppe. Sì, su me. Oh, buonasera, chiamo dall'ospedale San Biagio di Domodossola. Volevo farle sapere che finalmente sua moglie ha partorito un bel maschietto. Un'affre, due stu, un'affre. Grazie.